Oh mia Dio, anaccio crudo! Cosa vuole? Ho detto? Sì E ragazzi, come va? Io sono Feriniti E io sono Steph, e questo è Gigi Crema Youtubers Live Ma prima di tutto andiamo a salutare i nostri 6 eroi del giorno Che per oggi sono The Chris, I Love Dogs, Suami, Francesco, Lorenio Sita e Andrea Ciao ragazzi! Grazie mille per la condivisione Stanno ballando, stanno ballando entrambi Non volevo dire nulla, ero pronta No, smettila, smettila Ora siamo in tre, non siamo più in due Dai ragazzi, balliamo! Io non ci credo, non ci credo che mi stai facendo questo Mentre io devo dire tutto il programma del giorno Vai, inizia, sono tornato serio Posso iniziare? Allora Finalmente, a parte i collaboratori ballerini Io dico che abbiamo una bella casa Due bei collaboratori Una moglie Quindi direi che è arrivato il momento di conquistare il network più figo di tutti Sono prontissimo anche io Allora, io direi, prima di tutto seguiamo un po' Armani perché È nuovo È partito già male, secondo me Sai cosa è successo? Io lo so cosa è successo Lui praticamente è arrivato Ok E ha detto, che faccio? Sono nuovo di questo lavoro e non so come mi devo comportare Guardo il collaboratore più vecchio Ha visto Irving ballare e ha detto, vabbè, che faccio? Mi metto a ballare pure io, è ovvio Siamo messi malissimi Ma almeno poteva provare un balletto diverso per portare un po' di varietà in casa, no? Vabbè, almeno metto un'allegria, guarda Questo glielo riconosco Ogni volta che li vedo ballare mi metto un'allegria Comunque Diana ha finalmente capito che questo è il nostro appartamento Abbiamo avuto conferma di questo E sono felicissima, ci ha comprato dei vestiti nuovi Ci sta comprando un sacco di cose Va bene, va bene Allora, iniziamo facendo fare un bel video a lui Ok Oppure gli facciamo fare subito un corso Ce lo mettiamo prima a studiare o prima a lavorare? Che dici? Prima a studiare Ok Prima a studiare io direi un bel corso Anche perché ormai pure Irving è abbastanza avviato Quindi, cioè, non ha senso mettere lui che non sa fare nulla Gli facciamo fare il basic video recording che dà un po' di tutto Secondo me è il migliore per iniziare Sì, sì, assolutamente Poi pian piano vediamo di che cosa ha bisogno Tanto criticano solo l'editing Quindi Esatto Tanto quello è sempre comunque così E mettiamo anche Stereniki a registrare Eh beh, sì, sì Prima di iniziare abbiamo una nuova cosa con il nuovo aggiornamento Ve la dobbiamo assolutamente far vedere Guardate un po' Ci lamentavamo sempre che le carte sono casuali E adesso abbiamo la possibilità di scegliere le nostre carte Che ci appariranno mentre registriamo È una figata Abbiamo letto che se ne possono scegliere un minimo di 12 E un massimo di 24 Esatto Se non ricordo male Quindi anche un bel po' Puoi fare diciamo delle belle belle scelte Oh beh, lì ne abbiamo una Cioè come funziona? Allora Sto cercando di capire Allora, guarda qui sopra Guarda qui sopra Vedi che hai queste cose da spuntare? Sì Metti quelle disponibili Perché qua te le sta facendo vedere tutte Ma ti fa vedere anche quelle che non abbiamo Ok Giusto? Ok, quindi queste sono quelle che abbiamo Giusto? Credo di sì Cioè hai messo quella spunta Perfetto Credo proprio di sì Allora Secondo me dobbiamo Prima di tutto Secondo me dobbiamo bilanciare bene Il valore delle lampadine Non so come cavolo chiamarle Perché altrimenti Punti intelligenza io li chiamo Ok, punti intelligenza mi piace Non so se si chiamano così Però li ho chiamati così Perché altrimenti ogni volta Non riusciamo a finire il video Esatto Proprio perché ci costa troppo Poi evitiamo le cose col copyright Perché come sappiamo No, 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 no Se ti ricordi nel network le possiamo mettere Ti ricordi? Perché diceva che abbiamo La possibilità di infrangere le cose di copyright Credo di aver capito così Per ora era il 50% Quindi una volta su due ti va bene Esatto Io non rischierei per ora Sinceramente Non abbiamo mai rischiato col copyright Siamo delle breve persone Perché rischiare? Dai, evitiamo ancora per un pochettino Stiamo calmi e non rischiamo Allora io direi Dancing perché ci piace ballare Ormai abbiamo capito Che sono tutti ballerini in questa casa E poi Io ti direi Un formal greeting Ok, mi piace Ok, ci teniamo queste due come intro possibili Che vanno benissimo Poi dobbiamo scendere sulle transitions Che qua si fa dura Mettiamo questa Questa E togliamo queste due Così bilanciamo il costo di quella da 12 E ne mettiamo abbastanza Che non costano troppo Ok, ok Ma aspetta Io sto notando anche una cosa Che forse non abbiamo fatto caso Ma hanno messo anche l'emoticon Sì Sulle Ok, ok Sono carine, vero? Perché dicevo C'è qualcosa che non mi quadra Ma non capivo cosa fosse Sono molto belline L'emoticon che ti fa capire forse Il tipo di commento Che andrei a fare È molto carino È molto carino Sì, mi piace Mi ha già subito conquistato tantissimo È troppo carino Vediamo se cambia qualcosa Uh, guarda, vedi? Le carte sono anche posizionate in modo diverso E hanno l'emoticon anche mentre registi No, aspetta però Cosa? È cambiato tutto Vedi che c'è un punto di domanda E non abbiamo più Che carta dobbiamo mettere? Ah, prima praticamente dovevamo mettere Il simbolo uguale a quello che ci appariva Esatto Nel video E ora? Invece adesso mettiamo quello che vogliamo, insomma Non ne sono così sicuro, eh Che dici? Non lo so E adesso perché è diventato arancione? È cambiato tutto Oh mio Dio Oh mio Dio Ok, calmi Time before starting a game Non so se dobbiamo scegliere tipo off topic comment Ok Ok Ok, l'ho zecato, vedi? Non so bene come, ma ho indovinato Ok, adesso vedi? Ma il colore forse ci indica quale scegliere? Non lo so E probabilmente avendo scelto le carte ci fa già vedere quelle disponibili in base a quel colore Penso che sia cambiato in questo modo, no? Ok, allora, vedi? Prima partita impariamo come giocarci Quindi possiamo fare un commento Una critica costruttiva Vediamo se gli piace Sì Ok Io sto andando a casaccio Cioè, sono confuso, eh Io in questo momento sono molto confuso No, no, no Io penso di aver capito Penso che praticamente per ogni scena Ormai c'è un colore E non più il simboletto come prima E noi avendo scelto quelle carte No, vedi? Me l'ha detto sbagliato Non è il colore E allora non sto capendo Mi sa che dobbiamo leggere questo E fare la scelta più adeguata Oh mio Dio Non ci credo Cosa vuole? Ma l'ha detto? Sì Praticamente ci ha rubato il collaboratore Io non ci credo Tessa ci ha rubato il collaboratore Sono scioccata Sono scioccata Praticamente fa anche le risatine Si scusa di questo Ma non gliene frega nulla E continua a ridere Ci ha rubato Armani Armani No ragazzi, ragazzi Questa è guerra Ragazzi, è guerra Io non ho parole Te ne rendi conto Che ce ne fa una più del diavolo Io non ho parole Cioè, è venuta in casa nostra Ci ha rubato Armani Si ha rubato Armani Che ormai si era ambientato così bene Faceva dei balletti così carini Io non la perdono È perfida È perfida come non so che cosa Cioè, quando ti aspetti Che abbia finito di fare le sue cattiverie Te ne fa un'altra Io sono scioccata Sta vincendo la guerra in questo momento Ma tu non hai capito Che sono arrabbiatissima Per questa cosa Sta vincendo la guerra Assolutamente Ci sta riuscendo Guarda Oh mio Dio Allora, sai cosa è successo? Gli ha fatto il lavaggio del cervello E adesso anche Armani È diventato un nostro nemico Gli ha detto che i suoi balletti Sarebbero stati apprezzati di più A casa sua E Armani è diventato Il nostro nemico Ragazzi Ma io volevo Armani Mi piaceva un sacco E piaceva un sacco Anche a chi ci segue Perché ho letto un sacco Di commenti positivi Scusami poi per Ecco Lo sapevo Non ci credo Cioè Io no Allora, non ho parole Gli ha davvero fatto il lavaggio del cervello Adesso anche Armani Ci insulta nei commenti Cioè Armani Ti abbiamo fatto fare il corso Ti abbiamo fatto diventare uno youtuber E tu ci ripaghi in questo modo Abbiamo raddoppiato i nostri haters Adesso sono due È guerra È guerra ufficiale Ci serve un piano Hai qualche idea? No Non ho idea Perché non è bastato farla fuori su The Sims Ci vuole qualcosa di ancora più cattivo Perché non la smette Cioè quando tu pensi Che lei Sia a posto Che si stia facendo la sua vita Continua a rovinare la nostra Non va per niente bene questa cosa Finalmente la vita di Stereniki Stava funzionando Ma io ho detto Che bello Abbiamo la casa I collaboratori Diana Tutto quello che vogliamo E lei invece continua a interferire Nei nostri piani Vediamo il lato positivo Almeno non ha rovinato Erwin Perché Erwin è più importante di Armani Perché è più bravo Ma Armani mi piaceva Armani era carino Armani piaceva a tutti Non piaceva solo a noi Sono arrabbiatissima Perché piaceva a tutti quanti Te l'ho detto Ho letto tantissimi commenti positivi Verso di lui E in questa nuova casa Visto che siamo troppo in alto Non possono arrivare i postini E ci spediscono le cose le cicogne Infatti i pacchi arrivano in balcone Con l'aereo Io te l'ho detto che viviamo sulle nuvole Che questo è un palazzo fatto sulle nuvole L'ho detto Non c'entra spiegazione È assurdo Ci arrivano buttate così in balcone E guarda Questo dovrebbe essere il regalo Che ci ha fatto Diana Vediamo Guarda cosa c'è Il nuovo stereo Dove è andato? Il nuovo stereo Dove è finito? Sarà felice Erwin Guarda Per la felicità di Erwin Ora potrà ballare con lo stereo Che bellino E potrà ballare le nuove hit Non credi Potrà ballare tutto quello che vuole È molto carino Ma scusa Sì? Qui non c'erano degli strumenti musicali? Sì hanno tolto tutto mi sa Ci hanno ripulito Forse Tessa quando è venuta con Armani Ci ha ripulito pure la casa Non lo so Ma perché? Io li volevo Ero così felice di avere gli strumenti musicali Lo so Ti lo so che ti piacciono Visto che Tessa ci ha rubato Armani Sai cosa facciamo? Andiamo a un party con Diana ed Erwin Li scateniamo entrambi E ci cerchiamo un nuovo collaboratore Più bello di Armani Assolutamente sì Perché sono arrabbiatissima Anche lui è diventato un nostro nemico E non va bene questa cosa Uh che carina sta maglietta Ci hanno chiesto di vestirci in bianco È un party tutto white Perché stiamo andando Ah i white party Sì perché stiamo andando a un party invernale E quindi è tutto bianco Capito? Non abbiamo scarpe bianche però Così più o meno vanno bene Dai su Più o meno Occhiali giusto per fare un pochettino È bellino È bellino mi piace È sempre carino Andiamo Diana su Muoviamoci Erwin è felicissimo Perché stiamo per andare in disco A ballare Finalmente si scatena Finalmente si scatena Secondo me non perderà occasione Per scatenarsi il più possibile Almeno qua ballerà tantissimo Guarda E infatti guardalo Guardalo Subito Guardalo subito Balliamo un po' con lui Olè Troppo carini Dai tutti a ballare Almeno qua gli è concesso di ballare Aspetta Momento serio Chi è? È sempre la gemella di Tessa Non si confondere Tessa È talmente codarda Che non si fa vedere A nessun party E a nessun evento In cui noi andiamo Guarda che bellina Diana Ma non abbiamo notato quello Sei vestita meglio Che il nostro matrimonio È troppo carina È troppo carina Ma è ingiusto È notato che adesso Ci sono nuove faccine Quando si baciano Sì Che può arrivere la faccina triste Come prima Adesso fa gli unicuricini Sono troppo carini Finalmente è felice Quando ci diamo i baci Ed è troppo carina Con sto vestitino bianco Mi piace troppo Diana è sempre una persona di classe È solo Tessa Che è una brutta persona Esatto È solo Tessa Dobbiamo trovare il collaboratore Allora Chi ci può piacere Questa è un'idea migliore Mollala Mollala Bellissima Bellissimo Assumiamo la gemella di Tessa Perché lei si è la gemella di Tessa Quando ti vengono queste idee Guarda davvero Io volevo fare le cose per bene Poi ripensate a Tessa Che ci ha rubato Armani Ho detto E noi assumiamo La sua gemella Guarda Peggio di così Non le possiamo fare Esatto Abbiamo trovato il modo Di vendicarci anche su Youtubers Live È arrivata Guardala Dobbiamo istruirla bene In modo tale Che non possa essere Più corrotta da Tessa E portata via Istruiamola subito Uhuhu Ha già capito Ha già capito Sì Come funziona in questo appartamento Stai secondo me Perché se ne è andato Armani Perché invece che fargli fare un video L'abbiamo fatto studiare Dici che è quello il problema Quindi adesso le facciamo registrare un bel gioco E poi la facciamo studiare Quindi le facciamo vedere subito come sarà il lavoro E poi la mettiamo a studiare Bravissima Hai capito subito Comunque Assolutamente Siamo pieni di soldi Sì è vero È vero Facciamo shopping Bello La parte preferita La mia parte preferita Cosa compriamo? Giochi? Cosa per la casa? Ok possiamo fare shopping Perfetto Perfetto Allora cosa prendiamo? Io inizierei dal pc Ok E poi le cose per la casa Voglio assolutamente più decorazioni per la casa Chissà perché non mi stupisce Allora Ok Bello questo Lo compriamo Lo vuoi comprare subito? Sì Dobbiamo far vedere che siamo dei boss Con il super computer Io ti direi una cosa Dovremmo migliorare anche le postazioni dei collaboratori Non solo la nostra Non mi interessa Dovremmo iniziare a migliorare anche le loro postazioni Infatti hai ragione Però Non lo so Il prossimo shopping sarà per loro Mettiamola così Blue Ball Mic Live Perfetto Bello Sì Le cuffiette non mi interessa Nuovo programma di editing Ok E direi nuova webcam Tutto il pc potenziato Stai spendendo 2500 dollari 2100 Allora Guarda Guarda quella è bellina Uh il drago Sì Lo voglio Lo voglio assolutamente Ok Scendi giù Ok Vediamo cosa ci può essere di interessante Io direi qualche altra cosa per il muro La sedia Che cos'è questa? Una roba C'è bellina A che serve? Una sedia Voglio anche il tavolo da caffè Ok Il tavolo da caffè Troppo carino Poi? Qualcosa per il muro Qualcosa per il muro voglio E per il muro no? Sì Ok Sono adesivi per i muri praticamente Come quelli che noi abbiamo qui dietro Hai capito? Ok Poi cosa vuoi? Cosa vuoi? Vai giù Vediamo cos'altro c'è Fammi vedere un po' La scimietta La scimietta Il peluccio Questa Dobbiamo mettermelo un po' più in vista Però Vabbè Va bene Va bene Stai d'accordo? Sì Ok Il tavolo dove va Il tavolo lo dobbiamo Ma che senso ha? E vabbè Un tavolino per arredare Bellino però Questa Oh bellino E lì probabilmente ci andranno altre cose che compriamo Perché mi sembra che si possano appoggiare delle figurine Vediamo Peluche Qua Sul letto Sul letto Carinissimo Ok Non finisce più Non finisce più La torre Eiffel Qui Ok E abbiamo finito vero? Oh ce l'abbiamo fatta L'ultima cosa che abbiamo comprato Sono felicissima È stata più dura fare shopping Che fare i video La nostra casa sta diventando bellissima Però E anche la nostra postazione è bellissima Adesso mancano solo le postazioni dei collaboratori Che poverini Altrimenti Sai cosa succede? Che Tessa ce li rapisce di nuovo No Non si deve più permettere Perché magari gli promette i pc più performanti Noi abbiamo rapito la sorella gemella Va bene Va bene Ascolta Pan per focaccia Come si dice Guarda Occhio per occhio Dente per dente Te li dico tutti Ok Per giustificare i miei piani Ok direi di fermarci così Ormai facciamo tantissimi soldi Secondo me ci possiamo quasi permettere l'altra casa Ma non ci spostiamo Fino a quando non miglioriamo le postazioni di tutti Compriamo tutte le console Compriamo qualunque cosa Sì perché Noi per le console abbiamo lasciato un po' perdere Ma ce ne mancano davvero tante Quindi anche io direi di migliorare prima Tutte le postazioni Così i collaboratori sono felici E non si fanno corrompere da testa Ok E poi pensiamo di andare Ah il nuovo network Scusa me Ne stavo dimenticando Esatto Dove dobbiamo arrivare a un milione di iscritti Il network per i VIP E poi possiamo pensare anche a cambiare casa Oh yes Vedremo un pochettino Beh ragazzi il video è finito così Se vi è piaciuto lasciateci un bel like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare l'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao e alla prossima Ciao ciao Ciao